ciao amici guardate che cosa ho trovato dove sei gecko wow quanti giocattoli qualcuno ha dimenticato degli stampini possiamo giocarci e costruire un bell'aereo bello io prendo la paletta giro lo stampino pronti ecco l'aereo il mio nuovo convertitore super laser è pronto come posso testarlo vediamo chi è quello la aha le maschere pj giocano beh ora vi preparo un bel giochetto ah ma che cosa è successo il giocattolo si è trasformato in un coccodrillo sono sicuro in tutto questo c'è lo zampino di romeo conosco le sue malefatte dobbiamo trovarlo subito io distrago il coccodrillo ed io vado a cercare romeo io invece aiuto gecko ehi mostro sono qui dai prendimi non ce la farai mai guarda gecko guarda cosa ho trovato costruiremo un recinto e il coccodrillo non attaccherà più nessuno non farà male nemmeno una mosca che ne pensi perfetto ce l'abbiamo fatta sì evviva ma dov'è gatto boi aspetta un attimo romeo ora ti trovo aha ecco dove sei sta fermo ah gatto boi mi ha trovato devo subito svignarmela non ti muovere romeo continua pure a sognare non mi prenderai mai ti acciuffo con la rete ma ma che succede aiuto mi hanno preso ti ho preso romeo oh no hai rovinato il mio piano perfetto tadaaa guardate che ho portato guarda cosa hai fatto devi risolvere il problema subito sì vogliamo avere indietro il nostro aereo beh me lo ridarò però prima liberatemi bene ti crediamo riconfigura subito il tuo laser ah il piano era così perfetto avevo pensato a ogni minimo dettaglio mi rovinate sempre tutto evviva possiamo andare a giocare adesso il tuo laser lo prenderemo noi così non farai altri guai oh no hanno preso il mio super raggio della morte no 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 ma inventerò qualcos'altro qualcosa di ancora più terribile non vi libererete facilmente di me gli occhi non 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 Grazie a tutti.